Salve a tutti ragazzi, sono Samprimezzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui per un nuovo episodio dedicato alle vostre cari allenatore. Prima di proseguire ragazzi, il video uscito settimana scorsa è senza senso troppe S, ma lo sapete che da buon romagnolo ogni tanto gliela butto una S in più. Credetemi, andatelo a recuperare, lo trovate sul canale, è qualcosa di assurdo. Abbiamo visto tre progetti molto molto particolari che vorrei anche riproporvi qui sul mio canale. Quest'oggi quattro progetti, si torna a progetti un pochettino più tranquilli, ma comunque secondo me molto molto interessanti. C'è sempre qualcosa di intrigante da scoprire dai vostri progetti e qualche giocatore da appuntarsi nel proprio block notice. Considerate poi che alcuni di questi progetti sono ancora di novembre-dicembre, quindi sono ancora un po' a quelle email. In caso vogliate inviarmi le vostre carriere allenatore dovete mandarmi gli screenshot all'email infocarrierechiocciolaiau.com Nicola ci manda il suo progetto con la Ferralpi Salò, squadra che avevo consigliato all'inizio di FC24 come progetto fullita o dove si poteva utilizzare parecchio la primavera. In generale la tua squadra è veramente veramente forte. Sono contento ci sia ancora Pizzignaco, sono contento ci sia una buona base di italiani. Abbiamo Cambiasso, abbiamo Terrazzano, Prati. Ci sono poi dei giocatori che vorrei andare a vedere insieme a voi. Qualcuno l'abbiamo anche già visto in altre carriere, però in generale secondo me hai fatto un buon lavoro. È uscito a fuori una bella squadra. Vorrei concentrarmi sui due centrali, Sottini e Flamingo. Edoardo Sottini, difensore centrale terzino di sinistra, 20 anni, 61 di overall, 68 di potenziale. Come straminchi hai fatto a farlo crescere fino all'83, hai fatto secondo me già un ottimo lavoro. Flamingo è in prestito dal Sassuolo all'Utrecht. Mediano, difensore centrale, terzino di destra, che ha avuto un piccolo upgrade, 70 di overall, 80 di potenziale. Giocatore intrigante, non credevo potesse crescere così tanto. Il Razzano da quando si è trasferito al Milan ha avuto un aumento di valutazione generale, più 2, e un aumento di potenziale, anche qui più 2. Quindi adesso siamo a 83 di potenziale, diventa un giocatore davvero tanto intrigante. Addirittura più 6 nel cross, più 8 in contrasto, 81 totale di velocità, sicuramente un bel terzino di destra, che può giocare anche a tutta fascia. Prati lo conosciamo, come conosciamo Ristanio, Gnonto. Vi faccio rivedere Boot perché è un giocatore intrigante. Sono un pochettino... non lo so. Quale Boot è? Ci sono due fratelli? Taylor Boot, che è un ala di destra centrocampista centrale dell'Utrecht. Ma poi c'è anche Zach Boot, che gioca nel Volendam, in prestito dall'Eister City. Credo sia suo fratello. Secondo me è l'altro, però. Ovvero Taylor Anthony Boot. Sì, che magari al trequartista potresti anche farlo giocare, però insomma non è chi sia il mio trequartista preferito nel caso. Eccolo qua, Alessandro Pietrelli, attaccante. 1,92 m per lui, 87 kg, ammazza che animale. 20 anni, 61 di overall, 71 di potenziale. Gioca nella Feralpi Salò. Eppure ha 75 di velocità scatto. La sua caratteristica migliore. Hai capito? Che bella bestia. Nick, hai fatto un buon lavoro. Bravo. Prima di proseguire con il video, vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per Starks, piattaforma all'interno della quale sto partecipando al fantacalcio virtuale. E tra l'altro, all'interno del mio canale potete trovare video dedicati, così da poter capire e comprendere meglio questa piattaforma. Vi avverto però che ci sono ancora tre giocatori che potete acquistare a un prezzo fisso di 0,18 star token per quanto riguarda Ricci e Luvumbo. 0,05 per quanto riguarda Sec. E i fantallenatori sanno che Sec si sta per trasferire. Potrebbe andare in una squadra dove effettivamente potrebbe avere un pochettino più di spazio. Quindi perché non puntare su questo giocatore? Ognuno la pensa come vuole. Nel caso vogliate puntare su altri giocatori, è chiaro che dovrete fare un pochettino di compraverdita. Comunque, se volete avere qualche informazione in più dedicata a Starks, come vi ho già detto prima, sul canale trovate dei video dedicati. Però, nel caso vi vogliate iscrivere dal link in descrizione, otterrete poi 30€ da poter utilizzare sul mercato. Luca ci manda la sua carriera natura con il Catanzaro. Restiamo in Italia. Abbiamo una linea difensiva composta da, in porta abbiamo Desplanche, Beruato, Todibò, Dorgu e Krastev. In questo momento non mi sovviene chi minchia è Krastev. Ah, porca miseria, gioca nel Catanzaro. 20 anni. Difensore centrale mediano bulgaro, 65 di ovvero l'80 di potenziale. Ah! Bel lavoro che hai fatto con lui. Diventato un 88 capitano. Mi piace. Passando al centrocampo abbiamo cancelliere sulla sinistra. Ricci, Sanchez e D'Andrea che è diventato un 93, Mizzega. D'Andrea che è in prestito dal Sassuolo al Catanzaro. 18 anni, esterno che può giocare anche esterno offensivo, chiaramente come ha, la 68 di ovvero, l'83 di potenziale. Mamma mia questo! Mamma mia! Che bestia! Può crescere veramente molto e tu l'hai dimostrato. Bei dati di movimento. E non è il giocatore che deve crescere di più, perché Dorgu è diventato un 96, mamma mia. Letta avanti abbiamo una coppia di Akite Durosinmi molto molto particolare. Durosinmi l'abbiamo visto anche nella re-building che vi ho fatto uscire ieri, dedicata alla Spalmas. L'ho anche provato in-game, quindi se vi va andate a recuperare anche quel video. Ed è una prima punta di 20 anni che gioca nel Victoria Purzen. Se non sbaglio sta per trasferirsi all'Atrecht Francoforte, o comunque si trasferirà il prossimo anno un attaccante fisico, ma allo stesso tempo in-game non risulta, secondo me, troppo pesante per la sua stasta. 74 di accelerazione, 78 di velocità scatto, può migliorare. Grande forza, ottima elevazione, un bel attaccante. Chi non conosco è Umar di Akite, attaccante 19enne che ha avuto un bel upgrade nell'ultimo aggiornamento, con un più 2 di valutazione generale. Quindi è passato da 67 a 69, il potenziale è rimasto invariato, quindi 80. Però sono state fatte delle belle upgradeate a tanti fondamentali del ragazzo. Addirittura più 5 nel controllo palla, più 4 nella reattività. Insomma, è diventato un discreto attaccante che non ho mai provato e che mi intriga molto. Hai creato proprio una bella squadra, Eletta Luca. E poi in panchina vedo che come primo sostituto Christovic ti piacciono gli attaccanti un po' così fisiconi? In generale di Akite, comunque, velocità ha un totale di 93. Sicuramente Christovic potrebbe risultare molto più pesante rispetto a Di Akite, ma forse anche lo stesso duro Zinmi. Achille mi manda la sua carriera allenatore con il grasshopper. Vedi che ti ho inserito all'interno del video, amico mio? Io mantengo sempre le promesse. Guardate che bella formazione. Guardate che bella formazione stralata fuori. Mi piace moltissimo. Tra poco andiamo a vedere nel dettaglio la formazione del grasshopper. Però, in generale, guardate lui com'è stato bravo a sfruttare le forze che aveva già all'interno della squadra. In generale è venuta fuori una bella squadra completa. Praticamente dalla mediana in su abbiamo tutti sopra al 90. Ma anche la linea difensiva con Loretz in porta, Jeff Thee, Seco, Longwick e Sambo sono di qualità importanti. Questa è la squadra del grasshopper. Come potete vedere, tanti giocatori sono e fanno parte della sua attuale titolare, ma comunque squadra. Lo stesso Fink, come potete vedere, è stato downgradato adesso di un punto potenziale. L'anno scorso giocava nel Basilea. È in prestito al Basilea, effettivamente. 20 anni, 64 di overall, 80 di potenziale adesso. Anche lui, attaccante molto fisico, sicuramente molto più pesante risulterà in game. Tu l'hai fatto arrivare al 98 in un solo. Perché il buon Bradley Fink vince anche il pallone d'oro. Incredibile quello che si può fare su FC24. La cosa bella è che anche Corbeanu e Morandi fanno parte del grasshopper. Theo Corbeanu è un esterno canadese in prestito dal Wolverhampton. È stato upgradeato nell'ultimo aggiornamento. 21 anni, 69 di overall, 79 di potenziale. Dati di movimento strabilianti. E occhio al 5 stelle piede debole, perché lui parte mancino. Però potete utilizzarlo tranquillamente anche sulla sinistra. E rientrare, perché è un giocatore che ci sa fare con entrambi i piedi. Esterno molto molto intrigante e comunque un metro e novanta da tre chilogrammi. Insomma, un esterno forse atipico, ecco. Giotto Giuseppe Morandi, signori. Hai capito Gianni? Che dire? Hai fatto un gran lavoro con lui. Perché magari uno può pensare che possa essere spazzato come giocatore. Magari uno non gli dà tanta fiducia, però trasformato da trequartista intanto ti fa due punti overall in più. Che da 68 passare al 70 non fa mai male. A quel punto lì è tutta una questione di cambi di piani di crescita. È una questione di quanti gol fa a stagione, come performa. Insomma, è un giocatore che hai trasformato in una bestiolina, mi verrebbe da dire. Hai fatto un gran lavoro con lui. Hai diventato un 91. Cioè, insomma, non male. Loretz, il tuo portiere titolare, gioca nel Lucerna. 20 anni, 67 di overall, 80 di potenziale. È stato upgradeato nell'ultimo aggiornamento. Con un bel più i due in riflessi, più i due in piazzamento, più i due in presa. Oh, hai capito il portiere del Lucerna? Non mi ricordo se nell'email mi hai detto chi era quell'inglesias, però non riesco a trovarlo. Sono molto molto intrigato da Jefte. O Jefte. Ma però, Vital da Siv, Diaz, Jefte di Junquira di Jesus, Joao, Pedro, 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 Pedro. Che terzino? Si gioca nell'Apoel. 64 di overall, 78 di potenziale, 19 anni. Non me l'aspettavo, guarda che fascia, non me l'aspettavo. Lavorone Achille, hai fatto veramente una bella squadra. Mi piacerebbe creare un torneo dove tutti ci sfediamo con le nostre squadre. Ma perché? Perché la EA non crea la carriera all'allenatore online dove ci possiamo sfidare e dove possiamo controllare i nostri progetti? Io vi metto lì un progetto e voi mi mandate la vostra squadra trasformata. O viceversa, voi mi mandate la vostra squadra e io ve la modifico. Quanto sarebbe fico? Bravo Achille, continua così. Siamo in chiusura, carriera di Stefano con il Sandefjord, carriera nordica, tra virgolette. La squadra è chiaramente una squadra nordica. Questa è la formazione che è sala da fuori. Bella, mi piace. Le Jeune e Will che sono giocatori della primavera, tutti gli altri sono giocatori reali. Là, sulla sinistra, vedo una stella al Mazbekov. Vi ho portato un video dedicato ad Almazbekov. Andatelo a recuperare perché ne vale assolutamente la pena. non riuscirò a far vincere il pallone d'oro dal Mazbekov. Io non vi dico niente. Non vi dico niente. No, andate a controllare voi. Per quanto riguarda il resto della squadra, qui vedo un Egelli e un Zezè sulla linea difensiva che fanno paura. Wolle, Egelli, chi minchia... Non so chi sia. Gioca nel Sandefjord, il buon terzino sinistra Egelli. 19 anni, 60 di overall, 78 di potenziale, 1,80 per lui, 75 kg. Come è cresciuto bene il Regas. Zezè, invece, 18 anni per lui. Difensore centrale francese, 64 di overall, 82 di potenziale. Gioca nel Nantes. In Ligue 1. 1,90. Social, I guess. Come crescono, eh. 18 anni, 1,90. Che bello. Anch'io vorrei essere così alto. Proseguendo, ovvero sul centrocampo abbiamo Patrick Nuama. Immagino, Paz Kremaschi. Kremaschi. Kremaschi mi dice qualcosa. Kremaschi mi dice qualcosa. Benjamin Kremaschi. Benjamin Kremaschi. Il trequartista argentino che gioca nell'Inter Miami con Messi. Giusto? Credo proprio di sì. Non è argentino. Non so perché abbia detto argentino. Ma è statunitense. Però gioca nell'Inter Miami con Messi. Almeno quello l'ho azzeccato. 18 anni. Ha fatto effettivamente una buona stagione lo scorso anno. Bel giocatore che spero la prossima MLS possa avere ancora più spazio. Trequartista. 18 anni. Come dicevo, 65 di overall, 82 di potenziale. Non l'ho mai provato effettivamente su questo FC24. Ma sapete che... Ma sapete che un pensierino io lo faccio? Paz è Nico Paz. Centrocampista centrale del Real Madrid argentino. 18 anni. 65 di overall, 83 di potenziale. Patrick Numa come fa a crescere così tanto? Perché ha 17 anni, forse. 60 di overall, 82 di potenziale. Gioca nel Brescia. Però comunque abbiamo un 90, un 91 e un 92. C'è nel senso. Cresciuti moltissimo. Per quanto riguarda invece la zona d'attacco, Almasbekov, Kier e Alessio è un bel trio particolare. Beknaz Almasbekov, giocatore del Kyrgyzstan. Alla sinistra che gioca nel Galatasaray. 18 anni, 59 di overall, 77 di potenziale. Avete visto quanto l'ha fatto crescere. Jeppe Kier è un trequartista che in realtà mi gioca anche da ala di destra, soprattutto. Infatti spostato da ala mi fa un bel upgrade di un punto, in realtà. Gioca nel Bodo Glimt. Danese, 19 anni, 62 di overall, upgradeato nel nuovo aggiornamento, 78 di potenziale. Io vorrei farvi vedere gli upgrade che ha ricevuto questo ragazzo con il nuovo aggiornamento. Cioè, dati di movimento migliorati. 10 in reattività, migliorato in visione, migliorato in posizione d'attacco. L'hanno upgradeato in maniera discreta, eh. E 4 stelle mosse abilità. Chiudiamo con Filippo Alessio. Il tuo attaccante titolare. Che non credo sia la prima volta che lo vediamo. Comunque 61 di overall, 79 di potenziale. Gioca nella Roma. Un attaccante che all'inizio di FC24 dice Con questo che ci faccio? Decidete voi. Comunque, per avere 18 anni e dei dati così sviluppati non buonissimi, 67 di finalizzazione e 68 precisioni di testa, potrai non buttarli via. Hai fatto un buon lavoro con lui. Hai fatto un buon lavoro in generale. Bravo! Il video finisce qui, signori miei. Vi ricordo che questo era il secondo video di giornata. Alle 13.30 è uscito Football Manager. Quindi in caso vogliate recuperarlo, lo trovate sul canale. Ci tengo molto. Mi raccomando, fatemi questo favore. Supportate il mio lavoro. Vecchina al prossimo video. Un saluto alla mezza della prossima. Ciao a tutti ragazzi.